Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'applauso e dell'accoglienza. Parliamo di sogni oggi, parliamo di sogni che sono collegati a comete, ma cerchiamo di capire cosa sono queste comete e come questi sogni sono diventati realtà nel nostro caso. Le comete sono, per gli scienziati, gli oggetti che sono i rimasugli della formazione del sistema solare. Andando a esplorare queste comete, gli scienziati cosa pensano di fare? Pensano di scoprire come si è formato il sistema solare, come si sono formati i nostri pianeti e infine, in fondo, come si è formata la vita. È sempre la domanda che ci poniamo da quando esistiamo. Ma dove sono le comete e cosa sono? Questi rimasugli sono fondamentalmente ai confini del nostro sistema solare, ma i confini del nostro sistema solare non sono i pianeti come li conosciamo noi, è ben oltre il confine del nostro sistema solare. La maggior parte delle comete sono in questa nuvola di Oort che si trova al confine o a metà strada tra il nostro sistema solare e il prossimo sistema solare. Ecco, queste comete sono troppo lontane. Noi con la missione Rosetta siamo andati ad avvicinarne una che è stata intrappolata all'interno del sistema solare, tra Giove e la Terra. Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a decidere questa cosa? Beh, i sogni nascono da lontano, nascono in questo caso nella prima metà degli anni Ottanta. In quegli anni lì per me la priorità era ancora il calcio, Platini era il mio idolo, non pensavo alle comete, non pensavo al volo spaziale. Però c'erano scienziati, magari anche alla fine della loro carriera, che già sognavano oltre, volevano fare una missione di esplorazione cometaria. E quello è quello che noi abbiamo realizzato negli ultimi trent'anni, un sogno durato trent'anni che abbiamo portato a termine. Cosa abbiamo fatto in questi trent'anni? Abbiamo costruito il nostro satellite, ci abbiamo messo una ventina d'anni per convincerci si potesse fare, un'altra decina d'anni per costruirlo e dieci anni per arrivare alla cometa. In questa animazione vedete il volo di Rosetta per dieci anni. Rosetta ha impiegato dieci anni a raggiungere la cometa e molti pensano che sia la distanza. Rosetta ovviamente gioca un ruolo, ma quello che abbiamo impiegato molto a fare è a dare a Rosetta la giusta velocità per avvicinare la cometa nella sua orbita. Ma come abbiamo fatto? Beh, abbiamo rubato energia ai pianeti. Come si fa? Si fa passare il satellite vicino al pianeta, nel nostro caso abbiamo sorvolato la Terra tre volte in questi dieci anni, una volta Marte, e abbiamo rubato energia all'orbita del pianeta attraverso la forza di gravità. La forza di gravità l'abbiamo usata come mezzo per trasferire l'energia orbitale del pianeta alla sonda e lanciare la sonda sempre più lontano nel sistema solare. Quello che abbiamo praticamente fatto è che abbiamo reso un po' più lungo il nostro anno solare, abbiamo rallentato la Terra, quasi potessimo rallentare il nostro tempo. Dopo dieci anni di viaggio siamo arrivati finalmente in prossimità del nostro obiettivo. Ci abbiamo impiegato dieci anni e nel maggio del 2014, a una distanza di due milioni di chilometri dalla nostra cometa, abbiamo cominciato a osservarla con le telecamere di bordo. La vedete muoversi in questa piccola animazione e a cominciare a diventare attiva. Cosa vuol dire attiva? La cometa è un miscuglio di similrocce molto molto porose, immaginatela come una pietra pomice impregnata di ghiaccio, di acqua, di ghiaccio di anidride carbonica, di monossido di carbonio e altri elementi, impregnata. E quando questo oggetto si avvicina al Sole, l'energia del Sole lo scalda. E questo calore fa sublimare questo ghiaccio, diciamo evaporare anche se tecnicamente non è completamente corretto, e questo crea la famosa chioma delle comete. E questa chioma racchiude i propri segreti che volevamo andare ad esplorare. Quando siamo arrivati in prossimità della cometa, un paio di mesi più tardi, abbiamo trovato questo oggetto completamente fuori da ogni logica che ci aspettavamo. Completamente diverso, una forma così bizzarra. Questo oggetto è grosso circa 5 chilometri. Se volete rendere un'idea, pensate alle Alpi, il Monte Bianco è più o meno grosso, 5 chilometri. Ecco, questo è un oggetto grosso più o meno come il Monte Bianco. Vedete quella parete tra i due elementi principali dell'oggetto? È come una parete di mille metri delle nostre Alpi. Ma per esplorare questo oggetto bisogna volare in prossimità. Uno dei nostri obiettivi era anche atterrare sull'oggetto con una piccola sonda attaccata alla sonda madre Rosetta, la sonda File, che poi è atterrata sulla cometa. Ma per fare questo bisogna prima esplorare. La cometa per noi era un mondo sconosciuto. Quando lanciamo un satellite, lo mettiamo in orbita intorno alla Terra, o anche lo lanciamo a Marte. Di questi oggetti conosciamo tutto, siamo in grado di volare intorno a questi oggetti. Nel caso della cometa era molto, molto diverso. Nel caso della cometa abbiamo dovuto prima caratterizzare l'ambiente in cui siamo andati a volare, volandoci dentro. Cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto volare con queste traiettorie stranissime che vedete rappresentate in questa animazione, in prossimità della cometa, e carpirne le proprietà fisiche fondamentalmente. Ne cito una molto semplice, la massa. Per sapere a che velocità io devo volare in orbita intorno a un oggetto, devo conoscerne la massa, il peso, diciamo così. Ma come faccio a misurare il peso della cometa? Beh, noi abbiamo fatto delle traiettorie che lambivano la cometa, e vedendo come la forza di gravità della cometa perturbava la nostra traiettoria, ne abbiamo derivata la massa. Dieci miliardi di tonnellate è la massa della cometa. E con questi parametri, nel giro di poche settimane, siamo poi stati in grado di mettere la nostra sonda madre, con tutti gli strumenti scientifici dei nostri scienziati, in orbita a questo oggetto misterioso. Come dicevo prima, uno dei nostri obiettivi era anche atterrare con una piccola sonda sulla superficie della cometa. Questo un'ulteriore difficoltà. Parlavo prima di Monte Bianco. Beh, immaginate un aereo che vola a una quota di 22 chilometri sopra il Monte Bianco, ha a bordo una lavatrice, l'enderfile era più o meno grosso come una lavatrice, e lo deve far scendere su un ghiacciaio del Monte Bianco. Questa lavatrice non ha nessun sistema di guida, di propulsione. Viene buttata, gettata dal finestrino dell'aereo. Ecco, quello è quello che abbiamo fatto noi con l'atterraggio di file sulla cometa. Abbiamo dovuto praticamente sparare o lasciare cadere file sulla superficie della cometa da una quota di 22 chilometri. Per rendere un pochino l'idea di cosa stiamo parlando, di quali dimensioni stiamo parlando, di che numeri stiamo parlando, ho pensato di rappresentare questo evento, questa situazione in questo modo. Immaginate che la Terra sia grossa come una pallina da tennis. In questa scala la Luna è grossa più o meno come un cecio bollito. E se io le metto a una distanza relativa di un metro e mezzo, quindi a questa distanza, questa mi rappresenta la loro distanza nello spazio in questa scala. Ora prendiamo la nostra cometa, che era grossa a 5 chilometri, decisamente più piccola della Terra e della Luna. Se io prendo la cometa e la metto in questa scala, devo rappresentarla così. Prendo un capello umano, di quelli sottili, se già spesso è già troppo grosso, ne taglio una fettina sottilissima e questa è la mia cometa nello spazio. Bene, ora devo mettere la cometa a 500 milioni di chilometri di distanza. 500 milioni di chilometri di distanza in questa scala è 2 chilometri. Allora prendiamo la nostra fetta di capello umano e la mettiamo a San Luca. E lì vogliamo atterrare con l'enderfile che era grosso un metro. Praticamente quello che abbiamo fatto noi, a 500 milioni di chilometri di distanza in questo caso, è come se avessimo fatto atterrare, comandando Rosetta da una pallina da tennis, una molecola di omoglobina su una fetta di capello umano messa su San Luca a 2 chilometri da qua. Questo è quello che abbiamo fatto. Ecco, se noi fossimo stati un astronauta a bordo di file mentre scendeva verso la cometa avremmo visto queste immagini. Queste immagini sono montate in tempo reale, quindi vedete anche proiettata la distanza dalla superficie, la superficie che si avvicina molto lentamente. File scendeva con una velocità di circa un metro al secondo, e la velocità a cui noi camminiamo molto molto lentamente, perché la cometa, pur essendo 10 miliardi di tonnellate, ha una massa estremamente piccola in termini spaziali, ha una densità che è meno circa quella della metà dell'acqua, se prendo la cometa la metto in un oceano galleggia, e quindi attira molto molto lentamente file sulla sua superficie. E questa è la fase finale della discesa di file. Vedete che la superficie pian piano si avvicina, poi abbiamo dovuto guardare dove file era atterrato, e sfortunatamente abbiamo trovato questa immagine, abbiamo trovato le impronte del carrello di atterraggio di file sulla superficie della cometa, ma file non era in quel punto. Prima di dirvi un paio di cose su cosa ha fatto file, mi piace pensare che questo evento di file atterrato sulla cometa sia un po' una pietra miliare nella storia del volo spaziale, esattamente come questa impronta lasciata da qualcun altro in un altro posto nel nostro sistema solare. File è riuscito ad atterrare sulla superficie della cometa, ci ha inviato questa immagine che vedete, questa immagine che vedete è la superficie della cometa, purtroppo file è rimbalzato sulla superficie della cometa, è andato a depositarsi in un posto diverso da quello che noi avevamo pianificato, ciò nonostante ha funzionato perfettamente per tre giorni, ha fatto quasi tutte le sue acquisizioni scientifiche e in queste immagini vedete una parte del carrello di atterraggio di file e queste rocce, chiamiamole così, della cometa che stanno a una distanza di circa 80 centimetri dall'obiettivo della macchina fotografica. Lo scienziato responsabile di questo mi ha detto quel rimbalzo è stata una benedizione per noi perché non siamo atterrati in una zona piatta, siamo andati a infilarci in una specie di crepaccio, in una caverna, dove io ho trovato materiale che è vecchio, 4,7 miliardi di anni, a 80 centimetri dalla mia macchina fotografica ed era esattamente quello che volevo vedere. La missione Rosetta non era soltanto file, ha fatto tante altre cose, aveva un set di strumentazione scientifica a bordo che ha continuato a esplorare la cometa nella sua orbita intorno al Sole. Più la cometa si avvicinava al Sole, più diventava attiva, più emanava questi gas, emetteva questi gas, e i nostri strumenti hanno osservato tutta questa attività ma soprattutto hanno usato tanto l'ambiente intorno alla cometa rilevando tutti i componenti essenziali della cometa. Lo scorso anno la missione è arrivata alla sua fine, la cometa sarebbe ritornata nello spazio profondo, alle distanze di Giove, per noi non era più possibile far funzionare la sonda, e la sonda madre Rosetta l'abbiamo fatta atterrare sulla cometa, ma pochi giorni prima di atterrare siamo riusciti a prendere queste immagini dove abbiamo finalmente trovato il landerfile sulla superficie della cometa. Qua lo vedete incastrato nel suo crepaccio, nella sua grotta, dove ci ha dato questi dati scientifici incredibili. Ora, io volevo fare il pilota militare nella mia carriera, e far volare una sonda interplanetaria è una soddisfazione immensa, ma non siamo andati lì né per guardare le foto, né per dare soddisfazione al mio, o al nostro ego di piloti di sonde interplanetari. Siamo andati lì con domande molto più fondamentali. Lo dicevo all'inizio. Chi siamo? Da dove veniamo? Come si è formato il nostro sistema solare? Gli scienziati cominciano a darci qualche risposta, oltre a descrivere quello che hanno osservato, cominciano ad elaborare qualche teoria sulla formazione del sistema solare, sulla formazione della vita. Ad esempio, hanno trovato ossigeno molecolare sulla cometa. L'ossigeno molecolare è estremamente reattivo nello spazio, e non poteva resistere alla formazione del sistema solare, del sole. Quindi la cometa con l'ossigeno molecolare intrappolato esisteva prima della formazione del sole, non è più un rimasuglio della formazione del sistema solare, esisteva già prima. Hanno trovato anche aminoacidi, molecole prebiotiche, i mattoni delle proteine, quindi i mattoni della nostra vita. Ma se mettiamo insieme queste due informazioni, e queste due cose, che sono gli ingredienti fondamentali della vita, erano presenti nella cometa, o nelle comete, prima della formazione del sistema solare, beh, allora ci dice che questi ingredienti non sono specifici della nostra Terra, non sono specifici del nostro sistema solare, ma ci dicono che sono universali. Quindi potete immaginare voi cosa può significare. Hanno trovato anche lo xeno. Lo xeno è un gas che esiste anche sulla Terra, ma nella nostra atmosfera ha una composizione isotopica diversa da quella che c'è nel mantello terrestre, che non si riesce a spiegare perché o come possa essere questo xeno nell'atmosfera. Beh, se noi prendiamo lo xeno che è sulla cometa, e immaginiamo che questo sia trasferito alla Terra con un bombardamento di comete, come molto probabilmente è stato, e lo prendiamo in una certa percentuale che ci spiega quello che abbiamo nella nostra atmosfera, beh, allora questo ci dice che l'1% dell'acqua che abbiamo sulla Terra è stato portato dalle comete. E siccome l'1% della massa di una cometa è fatto di materiali organici, di molecole prebiotiche, di aminoacidi, ci dice che un bombardamento di comete sulla Terra può aver generato grosse concentrazioni di questi materiali, e quindi può aver dato l'origine alla vita sulla Terra. Questo è quello che ci ha raccontato la missione Rosetta. È stata, come dicevo prima, la realizzazione di un sogno, ma fondamentalmente il grosso messaggio di una cosa del genere è che non dobbiamo fermare la curiosità umana. Quello è quello che continuiamo a fare e continueremo a fare negli anni a venire. Stiamo preparando nuove missioni, nuove missioni che continuano su questa linea. Sfortunatamente, lo dico sfortunatamente, perché ho una passione ormai per queste comete, non nel campo cometario, ma stiamo preparando una missione che va a Mercurio. Si chiama BepiColombo e la vogliamo lanciare l'anno prossimo per esplorare il pianeta più vicino al Sole. Stiamo preparando una missione di nome Solar Orbiter. Vorremmo lanciarla nel 2019, forse 2020, che continuerà a studiare questo immenso reattore nucleare che ci dà l'energia per tutto quello che facciamo qua sulla Terra. Tutto quello che succede nel nostro sistema solare dipende dal nostro Sole. Stiamo lavorando molto attivamente sulle missioni per Marte. Stiamo preparando un rover che vorremmo lanciare nel 2020, far atterrare nel marzo del 2021, perforare la superficie di Marte per un paio di metri, per elevarne i campioni e vedere se Marte ospita o ha ospitato forme molto elementari di vita. Stiamo inoltre preparando una missione che si chiama JU, sta per Jupiter Icy Moon Explorer. Vuole andare a esplorare le lune ghiacciate di Giove. Giove è come un mini-sistema solare che non si è formato completamente. Le sue lune ghiacciate contengono acqua e l'acqua, lo sappiamo, è l'ambiente ideale per lo sviluppo della vita. Questo è quello che vogliamo fare nei prossimi anni. Continueremo a cercare, ma soprattutto non fermiamo la curiosità dell'uomo. Grazie mille per la vostra attenzione. 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 Grazie mille per la vostra attenzione.